eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi come sempre prima di iniziare vi invito a supportare il tg code lasciando un bel mi piace ricordatevi inoltre di iscrivervi se ancora non avete fatto per tutte le ultime notizie di mv3 season 6 warzone adesso metto anche qualche shorts sul mondo apple dato che voglio riprendere un po la mano con le ultime notizie sul nuovo iphone 15 e non solo salvatevi il primo link in descrizione che la mia collaborazione con eneba vi permetterà di risparmiare tantissimi soldi sull'acquisto dei videogiochi nuovi del passato sul gol del game pass di xbox sul plus di playstation sulle gift card per comprarvi giochi digitali e già troverete un sacco di offerte sui videogiochi nuovi e in arrivo inoltre come sempre dal lunedì al venerdì sono in live alle 14 su twitch mi raccomando se avete amazon prime potete supportarmi gratuitamente quindi vi aspetto alle 14 per parlare di tutte le ultime novità di code e non solo e rispondere a tutte le vostre domande partiamo con altre due mappe che vi faccio vedere il confronto tra la versione di mv2 2009 e la versione rimasterizzata che troveremo all'interno del multiplayer di mv3 2023 vi ricordo per chi non avesse seguito i precedenti tg code che mv3 a lancia avrà soltanto mappe rimasterizzate di mv2 2009 ve ne faccio vedere un'altra afghan che è completamente cambiato l'aereo appunto distrutto al centro della mappa dove la gente si metteva a cerchinarci sopra a fare i trick guardate com'è cambiata sia la grafica sia la struttura dell'aereo che sembrerebbe meno imbarcato nel terreno rispetto alla versione originaria ma come sapete ragazzi quest'anno viene rilasciato e verrà rilasciato mv3 quindi qual è l'intenzione di activision per i prossimi anni ho iniziato e ho buttato giù una mia teoria delle due possibili rilasci quindi delle due possibili possibilità che ha a disposizione activision per il futuro vedendo quello che ha combinato e quindi rilasciato in questi ultimi anni allora avremo praticamente due opzioni ovviamente queste opzioni potrebbero cambiare ragazzi in base a quello che accadrà con l'acquisizione da parte di microsoft perché entro ottobre ragazzi terminerà l'acquisizione di activision nel pancione di microsoft allora la prima opzione è ovviamente il code 2023 quindi quello di quest'anno che è sviluppato dalla sledgehammer il code 2024 sviluppato dalla trailer che questo è praticamente confermato che cosa accadrà nel 2025 si potrebbe tornare nuovamente con un titolo di infini world per poi passare nuovamente alla sledgehammer games per arrivare nel 2027 per un nuovo capitolo della trailer che quindi riprendere un po il filone che era stato inizialmente la teoria di activision di fare un code l'anno fatto da uno sviluppatore diverso per dare ad ogni sviluppatore tre anni di sviluppo del code mentre la seconda opzione potrebbe essere quella che sta accadendo in parte quest'anno quindi nel 2023 sempre la sledgehammer games nel 2024 sempre la trayarch però nel 2025 potrebbe toccare o alla trayarch quindi nuovamente come secondo anno di code 2024 oppure un code 2025 nel 2026 un titolo dell'infinity world nel 2027 un po come è successo quest'anno con o il secondo anno di code 2026 oppure un code 2027 sviluppato dall'infinity world con o soltanto dalla sledgehammer games quindi al momento queste sembrerebbero ragazzi le due possibili strade che potrebbe percorrere activision vedendo quello che sta facendo negli ultimi periodi invece come sapete nel fine settimana ragazzi si sono svolte le world series of warzone sia per quanto riguarda le finali globali team sia le finali globali solo praticamente hanno fatto degli ascolti pazzeschi hanno registrato un picco di 308 mila spettatori circa che a quanto pare è molto più alto rispetto ai call of duty della call of duty league champs che era arrivata a 294 mila spettatori di picco però è più basso rispetto ai major tre di questa stagione che erano arrivati addirittura a 335 mila spettatori di picco quindi sembrerebbe che è andata veramente molto bene la visione delle finali invece parliamo un attimo dei bundle perché ieri sera uno dei visti è stato rilasciato Mace l'operatore bundle mentre ragazzi domani è atteso dei classic pack e operation primate mentre questo qui appunto con il gorillone il 26 di settembre arriverà l'ennesimo throwback audio pack 2 sempre un bundle che introdurrà sempre i suoni relativi alle armi originali di mv2 2009 invece ragazzi ieri sera è successo un po' di tutto o meglio nuove notizie interessanti per quanto riguarda mv3 la modalità zombies ma che portano a pensare quello che potrebbe essere il futuro della mappa di warzone mi spiego meglio questa è la nuova immagine teaser che è stata rilasciata ieri sera per quanto riguarda la modalità zombies di modern warfare 3 come potete vedere già dalle immagini sembra che nuovamente ci siano forti richiami a quella che sarà appunto una sorta di sequel se vogliamo definirlo così o di richiami a black ops cold war guardate invece in basso a sinistra ragazzi si vede una mappa bene ieri si sono messi praticamente la community a cercare informazioni a riguardo e guardate che curiosità prendete appunto questo isolotto in basso a destra all'immagine non vi ricorda nulla relativamente alla campagna di mv2 ovviamente ragazzi è lo stesso identico isolotto proprio la stessa conformazione e soprattutto anche il lato dell'acqua proprio la forma dell'acqua e del canale della mappa la salmas la salmas come sapete ragazzi è stata più volte licata come essere la mappa nuova di warzone e come vi ricordo anche la nuova mappa di warzone o meglio parti delle mappe della nuova mappa di warzone saranno anche giocabili nella all'interno di zombies quindi sembrerebbe essere sempre più certo che vedremo una sorta di rivisitazione di la salmas quindi non proprio questa mappa tattica che abbiamo visto durante la campagna di mv2 ma ci saranno grossi richiami quindi grosse parti molto molto uguali ma sicuramente ci saranno delle modifiche rispetto alla mappa tattica nella campagna di mv2 vado ancora di più nel dettaglio perché sono riusciti proprio anche ad incastrarla all'interno della mappa alcuni giocatori anche l'hanno incastrato in maniera opposta perché come vedete le strade non coincidono tutte quante mentre l'isolotto incastrato fa bene il percorso dell'acqua quindi questa dovrebbe essere l'incastro perfetto sulla mappa di la salmas altri l'hanno messa anche nella versione inversa quindi mettendo la parte delle strade al contrario e anche in quel modo calcerebbe in maniera decente perché comunque l'isolotto con il percorso dell'acqua si va a incastrare sia nella parte verticale che nella parte orizzontale molto bene quello che è cambiato è ovviamente tutto l'intorno le strade e via dicendo quindi possiamo notare come ci sono state già delle modifiche rispetto alla mappa tattica vista nella campagna di modern warfare 2 ora bisognerà soltanto capire se si chiamerà la salmas se cambierà nome se sono state cambiate zone e appunto hanno messo delle parti ad esempio di urzikistan che si superava tantissimi anni fa quando c'era verdansk comunque già piccoli dettagli di quella che sarà la nuova mappa di warzone con l'integrazione di mv3 a dicembre cominciano a prender vita vi terrò comunque aggiornati nei prossimi giorni quindi mi raccomando un bel mi piace e iscrivetevi se siete nuovi vi ricordo alle 14 saremo in live su twitch per tutte le ultime notizie e parleremo un po' di tutto mentre con me ci vediamo domani per un nuovo video